Buonasera, buon maggio, buona primavera, buon inizio di millenio. Compagni e compagni, siamo per l'arte, la cultura, il concetto, l'amore, la sessualità, la libertà, l'uguaglianza, la pace e la rivoluzione. Siamo per la cultura gratuita nei caffè, nelle strade, nelle piazze, nelle fabbriche, nelle università, nelle scuole, negli uffici. Siamo con un gruppo di operatori culturali, di intellettuali, di artisti, che ha ipotizzato queste cose e molte altre negli anni 2000, come il battere Bush, Blair e Berlusconi, il produrre la pace, la bodega delle guerre, e in generale il vincere con Medvedev e Putin a Mosca, con Obama a Washington, con Boccali, la Marina in Umbria. Compagni e compagni, come previsto si è vinto le regionali in Umbria, si è vinto nella maggioranza delle regioni italiane, 7 a 6 con il centro-sinistra. Gugliano Epifani è stato confermato segretario generale della CGL al XVI congresso. Noi diciamo che cambierà il governo in Italia, prima o poi. In ogni caso si è vinto nelle Filippine con Achino, Achino III, figlio di Corazone, Achino, Liberigno Achino. Domenica prossima, 16 maggio, si va alla marcia della pace per gli assisti, contro la mafia e per la pace. Compagni e compagni, il Partito della Fondazione Comunista, la Federazione della Sinistra, sta raccogliendo delle firme per un referendum sull'acqua pubblica, per l'acqua pubblica contro il nucleare e contro la precarietà nel lavoro. La valutazione è che l'obiettivo delle 500.000 firme sarà raggiunto. Allestiamo la ricamazione dedicandola all'impero e al cosmo. Tesi, ipotesi, sintesi, traiettoria, consistenza e realizzazione, pensiero, idea, programma, teoria, ideologia, rivoluzione, cosmo rosso, cosmo, libertà e l'uguaglianza. Compagni e compagni, il leggendario, intramontabile, ineguagliabile, inossidabile compagno maestro Alberto Massarza. Immediatamente. Grazie, maestro. Grazie.